bella ragazzi siamo qui e apriamo il lama eh già apriamo eh la seconda in un giorno ma va bene tanto mangio ghiacciolo così mmm un epico dai un epico un cecchino vabbè dai va bene ok questo invece si perchè invece qua mi sto prendendo un lama festività dialoghi leggendario superstite buono eh comune non comune eh raro raro mai epico mai epico mai mhm ho trovato la vecchia lì la vecchia zombie con eeeh oh argento come progetto come supersiter l'ho trovata zombie eh oh due aprici ho trovato lanciatrone uno dei vicinati del corso dei gosmali degli ambienti con un'idea dei motivi per cui continuano a indossare questi terrestri no 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 e poi un po' questo va bene è forte comunque ok un buono apriamo ok mmm non male quando vuoi fare? ah ok con un gigallo va bene? sì verde e blu oro vabbè no è ancora balsa sta è una spada a modo di ghello un altro no altri ah lo so ah lo so questo blu altro oro l'oro l'oro alla fine è molto utile beh questo è vero di comprire un botto di roba anche 5 gocce anche 5 gocce anche 5 gocce 2 mila 2 mila e passa però io vennerò sinceramente sai di oro e cosa vuoi fare? il progetto ah ma ogni progetto è diverso? ok strano ok cosa no vabbè ok no, però fa più da necrisi sì, vabbè ok, mi è arrivato ma lo voglio anche tanto la dinamomura questo invece c'è tutto, sì, no, aspetta fammi da mortadella, non capito raccomando, non sapessi arde mortadella no, mortadella mortelata, non mortadella va bene per me sarà sempre mortadella boia, una gittata altissima beh non fa pochi danni, sento sì, non è malissimo ci sta, vai, non è malissimo ci sta vabbè bocchone squadre, cosa vuoi fare adesso? visto che ho iniziato il video con il box opening qualcosa di bello dai non facciamo niente non facciamo un'altra missione vabbè, no, però la mia, aspetta quel che abbiamo fatto io ce l'ho segnata, vero? no io ce l'ho in Italia che abbiamo fatto immondizia al al macero, vero? no allora abbiamo fatto minimalismo ah, allora me l'ha data vai, vai, inizia ah, posso non me la fa partire posso aggiungere un altro? vabbè, ok che aggiungo? vai alla mappa oh, lui aspetta che sto facendo una cosa stavolta non è blu e è viola poi avrò il personaggio che dovrebbe essere straforte poi avrò, stai calmo sento ok perfetto ok, ho survivalist non mi sto sicuro che è stata risoluta in un minuto secondi ok e aggiungimento vabbè, si guida bene no, questo no ok questo sì perfetto avvia come semplice come bere un bicchier d'acqua seriamente sì, ho messo via adesso potenziato il mio personaggio e io sono ancora dei mamma ho sentito si, 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 adesso finisco questa andiamo tra di noi ci cambiamo armi si, caricherò domani adesso vabbè adesso viene un po' di pene magari magari ma oh come facevi te con l'attacco strano O devo andare in un posto Dove? Qua? Qui? Ok, allora arrivo Eccomi Il tuo eroe è qua Allora metto una da vicino Devo gli armi da vicino Metto una scarsa No, una forte Una scarsa Deppiessime forte questa Allora metto quella scarsa Ok, l2 fa quel tacco strano Perfetto Dove sei? Ah, non sei qua Arrivo, sono già qui No, non sono abbastanza forti Per meritarselo Sono scarsi Cos'è? C'è casino qua? E c'è anche munizioni che mi servono Andato Poi è vero quanto salta Fai il doppio salto Fai già se la capriola Sai Ah, ma te sei là Ma dai Poi ma c'è la tempesta Ma c'è un regalo Tutto per me Ecco Eccomi il regalo Come stai? Bene Perfetto Andiamo via Ma per me Sono il più ricco In effetti C'è un botto di roba buona Si Fai attacchi dopo Ah, ma c'è gente? Ma morta? Ma anche perché? Oh, c'è un'auto di pompieri Pompieri Ci penso io Questo veicolo è inutile Che è Ho bisogno di metallo Quindi grazie Oh Ma non è andato niente Seriamente Che schifo Dai che arrivo full di metallo Che lo voglio Mi stanno volando in tetta I piccoli I piccoli zoni Ma bello Ti vogliono bene Ma fa degli attacchi? C'è uno che mi spara? Eh? Come ti permetti? Ecco Adesso è morto Io rompo le macchine Perché non hanno assicurazione Bisogna demolirgli Se no Non va bene Ah, poveri disgraziati Lì rompe gli alberi Io le macchine Quindi va bene Tutto normale Guarda che sono a 1940 Ho altre due o tre macchine E se no Ho full Perché i colpi per il cecchino Usa legna e metallo E basta Ok Full legna Full metallo Cioè Full legna Ciao Mori? No Sei resistente? Ma mori Però Cioè T'è morto Anche voi due Però E mori? Cioè Oh i nani Ci sono i nani Ecco i nani L'hai visti C'è un altro nannino? Dove sei nano? Nano Oh ma ho saltato Cosa salta? È tappo come so che cosa Come si chiede di essere Oh seriamente Povero Cosa gli ho fatto? Scusa T'ho torturato Ma ho fatto bene Se c'è brutto i capelli Proprio schifo Ok Oh Ho tratto un pompo Però Non ho letto Ma che è che dormi con un pompa? Un pompa del nonno nel letto Com'è possibile? Ma te lo faccio vedere? Non ci credi? Ma te lo faccio vedere? No no tranquilla Tranquilla Ci credi ci credi No seriamente Ma quel pompa del nonno Questa cosa mi farei Aspetta Eccolo Ah guarda Ma ne ho anche impaggiato Come era una volta No vabbè bro Cioè dai Fa 78 da lontano 55 No vabbè bro No 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 Posso anche vedere il mio pompa? Ma questo qui batti tutti 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 Ma anche il mio Batte Batte anche lo spas Cioè Bro È il mio Bro te dove sei? Guarda 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 Questo Il pompa No Aspetta Non ti faccio vedere Questo No 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 Non buttare Te da Via Via Ma che cazzo Cosa ha fatto? Ah ma c'è anche lui bro Eh No Fai scambi bro No 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 Mi sbaglio Mi rompio tutto No è mio È mio È il mio E questo qui da lontano Fa 78 Da vicino? Fa 200 Io no ho fatto un 200 Ma non so come Ma l'ho fatto Quindi non Ma mi sa che Non mi aveva Voleva rubare il pompa Ma ho detto Ma se lo becco Con la mia mia DM Io mi si chiama Cavaliere Coso Roba del genere Non so Cos'è? Che? Cos'è? Io mi si chiama Templaria Templaria Ah no Almeno no Mi si chiama C'è una zona C'è una zona Ah beh ma gli ammigliari Bro tra nemici Anche gli altri zombie Poi abbiamo Poi abbiamo Poi abbiamo fatto Una missione Ma 63 Da Ma come faccio A fare 63 Che sono Ancora In un'altra parte Della mappa Poi non ammiro neanche Questa cosa Qui che affari Mamma mia Ma se qui Poi un po' Ha deciso L'una Vero dietro Dietro Ok Ok Eh beh Sto messi bene Dai Qui ha un build Un build Noi copriamo No mi sono quasi rotto No Però lo dovete Craftare Mi sembra L'ho trovato Craftare Il tuo è questo Templare Si Bro lo posso Ricraftare Che bello Perfetto Oh God Oh Bro dobbiamo Far fuori 40 nemici Facciamo Un'altra missione Però non ci sono Ha un paura Bro se questo qui Dà un po' Qualcosa La ruba Sto scherzando Bro Ho bruciato lo scarro Dietro No Non mi fai rosare questo Che sta forte Ha doppietta Proprio qualcosa Di 10 No Arrivano Arrivano Io vado a tutta La fare safe Per farla Va a tutta La fare safe Mi interessa Io mi pusho A casa Vostra Spara Quanti mancano 4 Dai Quanto ci metto Oh Vai bro Ce l'ho fatta Sicuro Sì Ce l'abbiamo fatta No io ho 1500 Di vita Buongiorno Io ho 1500 Di vita Come faccio Sai quanto ha vittato Il personaggio Beh per questo video è tutto E ciao Da Chi da Boardwarejoker Il canale in descrizione Tra i primi piano E ciao